Hello people! Siete tutte ragazze, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui di nuovo con Aurora E facciamo un video Assaggi americani Anche se sei letto questo cos'è Credo che sia americano Questo è un americano perché c'è scritto American Why E cominciamo a prendere questo Questo Ehm Adesso Ma perché non venti? Ok Oddio si presenti in un modo fantastico Vabbè non si Il mio gatto Sento i miei piedini Un pizza Mi è morata Ciao Ciao Ho due gatti di peggio non lo so Mi ho preso un altro anche Questo tipo di panico Si sta arrampicando 10 su 10 io Un minuto su 10 Questi sono Questi con così qua Hai capito che ci sono? Non hai ripreso Un minuto su 10 È un minuto su 10 È un minuto su 10 È fantastico videre Non direi il gusto Mi sta uccidendo Normali 8 su 10 Ma tengo tutto Sì 8 Ok Che cosa stai? Io ho paura di città la cipolla Intanto mangio un altro poco Quelli là erano americani sicura Questi qua Schifo Io non assaggio Non assaggio Non faccio faccia dai Ho troppi gusti in bocca Non riesco a capire che questo Di certo non sembra che Forse un po' di carne sembra Un po' carne Io sono buone Sì più dell'altra questa Questa sì 9 8 al mezzo Intanto mangiare Promossa 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 Promossissimi Io ho fatto La solda Non è stato quello Dicendo Un po' di carne Mi sento mangiare E' solo Mando Spero che questa video Mi sento Un po' di E mi sento Di molto E mi sento Scrivete al canale Andate Goodbye vi voglio la prossima video, ciao!